In questa seconda domenica di Quaresima Il Signore ancora una volta ci invita all'allianza con Lui A uscire da noi stessi per andare incontro allo prossimo Perché Lui stesso ha attraversato l'Esodo L'Esodo narrato già nell'Antico Testamento proprio al capitolo quindicesimo Quando il Signore dai Cieli scende per stipulare un patto di allianza e di amore Con il suo servo Abramo, nostro padre della fede E manifesta questo suo amore, questa sua presenza attraverso il fuoco Che passa attraverso gli animali divisi Per stipulare appunto un patto di alleanza, di fedeltà con Abramo Che durerà fino alla fine dei secoli Ancora oggi questo patto continuo con il nuovo, con il vero Israele che è la Chiesa E poi è Gesù stesso che realizzerà in pienezza questo Esodo Iniziato già nell'Antico Testamento da Dio Quando Lui andrà verso Gerusalemme per donare tutta la sua vita per ciascuno di noi Proprio nell'Angelo si legge quest'oggi la trasfigurazione di Gesù Questo evento prodigioso, questa epifania di Dio, questa manifestazione del Signore Gesù stesso parla con Elia e con Mosè Il simbolo dei profeti e della legge Quindi di tutta la realtà della storia della salvezza Iniziata già nell'Antico Testamento Parla del suo Esodo, cioè del fatto che Lui Sta andando verso Gerusalemme E conosciamo molto bene come il Vangelo di Nunca Sottolinea l'importanza di Gerusalemme come il luogo per eccellenza della salvezza Perché tutto converge a Gerusalemme e tutto poi parte da Gerusalemme Gerusalemme è il luogo della salvezza per eccellenza Perché lì Cristo soffrirà, morirà e risorgerà per ciascuno di noi Allora, se tutto questo è vero, se tutto questo riguarda Cristo Se riguarda Cristo riguarda anche ciascuno di noi Anche noi siamo chiamati a trasfigurarci Cioè ad uscire da noi stessi, a compiere il nostro Esodo Per andare incontro al prossimo Ma questo è possibile solamente se abbiamo gli stessi sentimenti Che furono in Cristo Gesù A essere trasformati da di dentro A essere veramente creature nuove Ad uscire da noi stessi Questo è il primo Esodo Ad uscire dal nostro io Dalle nostre comodità, dalle nostre mentalità Dalla nostra logica, tante volte molto mundana Per accogliere invece la logica di Dio Che poi ci porterà sempre in movimento Perché noi siamo sempre in cammino Fino a quando giungeremo alla Padra Celeste Dove il nostro Esodo, il nostro cammino, il nostro percorso Troverà la sua conclusione Quando contempleremo faccia a faccia Il volto del Signore Gesù Il nostro cammino, il nostro cammino, il nostro cammino